La giunta siciliana ha già chiesto lo stato di emergenza ma per ottenere poteri speciali Roma chiede a Palermo tagli nel sistema che gestisce rifiuti, composto attualmente da ben 27 ato ed eccessivamente costoso e frammentato. In settimana garantisce la Renziana Assessore all'Energia e Rifiuti Vani a Contraffatto discuteremo in giunta del nuovo disegno di legge sul settore rifiuti che prevede l'istituzione di un unico ente di governo e controllo e di nove bacini di raccolta. Obiettivo? Quello di rendere efficiente ed efficace un sistema che è dagliato alle società raccolta rifiuti in Sicilia non è mai decollato e che non è riuscito a dare servizi ai cittadini e risposte ai lavoratori. Il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone aveva attaccato ancora la gestione siciliana del governatore. La Contraffatto conferma che la Sicilia è realmente in emergenza. La situazione di emergenza in cui ci troviamo è il risultato di anni di immobilismo, di scelte sbagliate, di veti incrociati e di posizioni ideologiche, continua la Contraffatto, che non hanno fatto il bene di questo territorio. Adesso è arrivato il momento di voltare pagina, obbligando i comuni alla raccolta differenziata, eliminando gli sprechi, fornendo il miglior servizio al minor costo. Ma se il governo promette che farà la sua parte, il Consiglio dei Ministri contemporaneamente si prepara ad impugnare una delle norme della legge di stabilità regionale, che riguarda proprio i comuni, ai quali la Regione voleva imporre una ecotassa. Di fatto, il Comune che non raggiunge i livelli di differenziata prevista, paga una tassa alla Regione, ma la legge nazionale impone che il costo dei rifiuti venga scaricato sulla Tari. A prescindere dalla norma in impugnativa, la Contraffatto conferma indirettamente che il commissariamento è in preparazione. Lo faremo, come sempre, in sinergia con il Governo nazionale, che ha dimostrato di avere a cuore la Sicilia, i suoi problemi e il suo futuro. Grazie.